Un convegno che si è svolto all'Università d'Annunzio sul rapporto tra USCA e Covid, in particolare nei comuni del Chietino e dell'importanza della cura a domicilio. Ne hanno parlato tra gli altri i medici Francesco Ricci, già sindaco di Chieti e Mauro Petrucci, già primo cittadino di Ripateatina. Questo convegno si trova appunto in uno spartiacqua nel momento in cui questo terzo picco epidemico sta scemando, ma in un momento molto particolare perché dobbiamo essere attenti e pronti attraverso le vaccinazioni ad affrontare il futuro. Questo anno abbondante nel mezzo di epidemia ci ha insegnato che l'integrazione ospedale e territorio è fondamentale per affrontare questo tipo di epidemie. E quindi noi oggi portiamo i dati di quello che abbiamo fatto nel scorso anno, coordinando gli USCA, lavorando con i medici di medicina generale, i medici di famiglia per cercare di seguire tutti i pazienti affetti da Covid-19 e tenuti a domicilio e nel contempo cercare di capire come possiamo fare in futuro per affrontare un eventuale quarto picco o per cercare appunto di limitare i danni. Poi c'è il grande problema del post-Covid che affronteremo e che cercheremo di risolvere sempre con integrazione ospedale e territorio. Attualmente si sta concentrando prevalentemente sulla vaccinazione perché è l'unico mezzo di cui disponiamo per poter arginare le ondate anche delle varie varianti che stiamo vedendo emergono sempre più continuamente. Il territorio ha un ruolo fondamentale anche perché dobbiamo al più presto rientrare nella normalità perché non esiste solo il Covid, esistono anche le altre patologie. Abbiamo i malati cronici che durante il Covid hanno avuto probabilmente un'attenzione minore sia per il lockdown sia per la riduzione delle attività specialistiche di consulenza che sono state effettuate. Quindi l'interesse nostro è di rientrare al più presto nella normalità e far sì che il Covid magari diventi una delle tante malattie con una gestione diciamo molto più tranquilla. Intanto fine settimana di vaccinazione anticovid a Rocca Montepiano il comune ha allestito alla palestra scolastica come centro vaccinale del territorio a cui l'ASL grazie alla collaborazione con il distretto sanitario di Guardia Greli ha dato la possibilità di somministrare 500 vaccini Pfizer. Con questa iniziativa detto il sindaco Adamo Carulli si è cercato di dare un'ulteriore avanzata alla campagna vaccinale sia a Rocca Montepiano che nei paesi vicini che hanno risposto all'appello che abbiamo lanciato come comune. Abbiamo cercato di fare solo il nostro dovere e di compiere un ulteriore sforzo in questo periodo molto difficile per consentire alla nostra comunità e al territorio circostante di poter tornare ad una spiccata normalità.